Ehi ciao a tutti, io sono Ginzia e siamo qui con una puntata del collegio un po' più romantica rispetto a quella triste, tristissima di ieri Era proprio triste ragazzi Ma comunque non pensiamo a più quella di ieri, pensiamo a quella di oggi che è molto romantica, bellissima Comunque premessa, vedrete Raoul anche in questa puntata, all'inizio di questa puntata perché ho preferito fare una reazione per l'uscita di Raoul Una reazione per quello che succederà in questa puntata e quindi ci sarà anche lui per l'inizio del video Ma comunque commentate giù nei commenti dicendomi che cosa ne pensate di quello che sta per accadere L'abbiamo capito, vedremo due piccioncini, oh mamma sono troppo felice Va bene, iniziamo, guardiamo, che bello I ragazzi partono all'attacco, siamo pronti per i grandi colpi Raoul, piccolo, vabbè Sapevate che i ragazzi stavano organizzando un colpaccio per il preside E adesso vedremo cosa hanno combinato No ragazzi non ci credo, ma che cosa? Ma quanto tempo c'è voluto per fare tutti quei coriandoli? No non ci credo, assurdo, però mi diverso Schiuma da barba Coriandoli ovunque No ragazzi ma qui si fanno espellere tutti Troppo bello Cioè vabbè dai, ogni tanto una marachella ci sta Alla fine è un programma televisivo Altrimenti resta, boh, troppo triste C'è il gregario ora Qui lo stanno sfidando, chi è il gregario ora, eh? Oggi il collegio si risveglia con addosso i segni dell'ennesimo atto di ribellione Penso sia la stagione con più espulsi Potrei sbagliarmi, eh, anche perché i primi non li ho visti proprio come con la quarta e la quinta stagione Però davvero tantissimi espulsi e ci sono tutti lì appesi Poi i disegni sono bellissimi, troppo particolari Pelatone, hai visto che bella sorpresa stamattina? Quelli se la dormono tranquilli E il buongiorno dei sorveglianti si prospetta più brusco del solito In piedi! Sveglia tutti, forza lì in piedi Che qui stamattina sculacciate a tutti Ma se dico in piedi vuol dire in piedi Oh ragazzi, l'avete vista? Era Linda C'è Linda in questo collegio Cioè non lo dimentichiamo che c'è Linda E ha fatto un urlo Non ci posso credere Ragazzi, Linda assente O è troppo educata E quindi non si sente per quello Oppure non lo so Cioè perché all'inizio sembrava una ragazza dura I genitori via Vabbè che ha 14 anni mi sembra Quindi è abbastanza piccola Però abbastanza assente Ma chi è quell'incivile che fa ste cose? Mamma, senza cuore proprio Chi è quell'incivile? Ragazzi Sono stati loro Vabbè raga, ogni tanto ci sta Chi sono i colpevoli? Qua davanti Subito, proprio così Ma poi avete visto hanno fatto proprio Il corridoio è diventato Il carnevale di Venezia Oppure le Alpi innevate È tutto bianco Adesso voi quattro Andrete a pulire tutto il collegio Gli altri stanno qua in piedi Senza fare colazione In attesa che voi terminiate le pulizie Scusa, ma la punizione è per loro quattro O per gli altri ragazzi che non hanno fatto nulla? Anche se vabbè Alla fine hanno preparato tutto insieme Perché i coriandoli ne hanno fatti insieme Però devono arrivare le loro in piedi Al freddo magari Non so se è freddo o no E loro vanno a fare le pulizie Che non ci vuole niente Quando avrete terminato le pulizie Andrete a fare colazione Prima stiamo belli leggeri Che si lavora meglio Ma ride pure lui Ragazzi ma che oggi il pelatone È di buon umore Tutto qui Cioè a suo piano lo facciamo Pure noi in colpo In effetti l'avrebbero dovuto fare tutti Era più giusto Ora inauguro ufficialmente I giochi delle pulizie Buona giornata I giochi delle pulizie Ma vedete che spiritoso Pure stamattina Mi piace Mi piace il pelatone Alcune coppie sembrano già ben affiatate Io e Cerio Siamo una coppia davvero esplosiva Ehi Siamo arrivati ragazzi Siamo qui Guardate lì che sono carini E la coppia che vince questa gara Avrà l'occasione di mangiare Un hamburger con patatine Eccolo tornato il mio amico Carmelo Il broff Non so se avete visto Sono usciti due video insieme a lui Perché si è un mio compaesano Un mio amico d'infanzia E quest'anno è in veste di professore Di ballo Non di breakdance Che è la sua specialità Ma di balli tipo Di sala Salsa Merenghe E vabbè Queste cose di qua Mentre l'anno scorso È entrato al collegio Come insegnante di hip hop Breakdance Più che altro Quindi Mi fa piacere che sei di nuovo qui Broff Grande L'obiettivo è non farsi toccare dal professore Ed evitare così L'eliminazione Grande gara ragazzi Chi vincerà? Per chi ti fate? Scrivetelo giù nei commenti Ragazzi cosa sta succedendo qui? Bellissimo Tutti a ballare A quanto pare Oggi la voglia di ballare Sembra aver contagiato Anche le figure più irremovibili Pure le figure più irremovibili Io non sono una di quelle Però ballo Va bene Basta Cinzia Applausi ragazzi Applausi nei commenti Bravo Bravissimo Ma che cos'è? Una piruetta perfetta Ma qui abbiamo un super ballerino eh Bravo il sorvegliante pelatune E' lui il broff che elimina coppie E qui i fratelli Uno dei fratelli Non li conosco ragazzi Mi dovete perdonare Uno dei fratelli preziosi E' stato eliminato E non vedeva l'ora Finale ragazzi Per chi ti fate Raul Teoli Giulia Matera Davide Vala Sofia Cerio Io Anche se adoro Adoro Lo sapete Raul C'è questa coppia di qua Che è proprio Davide e Sofia Quindi Carmelo Mi raccomando Falli vincere Perché Deve nascere qualcosa di bello Qui Bam 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 Grande Carmelo Che ha eliminato Giulia e Raul Mi dispiace Raul Lo sai Però Davide e Sofia Dovevano vincere Perché Ma avete visto pure i professori Che erano tutti dalla parte di Giulia Matera Ma 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 cosa Cosa Va bene Va bene Forse Giulia si muoveva molto bene Però anche Davide e Sofia Era una coppia abbastanza affiatata Quindi Approvata questa vittoria Ma io le adoro Va bene Basta Troppo esaltata Quando c'è l'amore di mezzo C'è quel feeling Che non si può spiegare Un bel hamburger Con patatine Ragazzi Facciamolo Facciamolo C'è un feeling Tra di loro C'è va Lo dicono pure loro Che bello ragazzi Troppo carina Questa coppia Dai Spero Ci sia qualcosa Di più Di una bigizia Lei ha vinto Una cena Per due A lume di candela Questa sera Con menù gourmet Chi porterà Con sé A questa sera Un'altra coppia No Giulia Non lo so Se ci stia Però lui Mi sembra abbastanza Imbarazzato All'inizio del collegio Mi sembrava Un po' più spavaldo Se avessi vinto io Avrei portato Sofia Sofia è la persona Migliore Che abbia mai incontrato Nella mia vita Li vedete Gli occhi a cuoricino Ma li vedete Guardate Ho gli occhi a cuoricino Ma che cosa meravigliosa In classe ci sono compagni Che si divertono A rimorchiare Ma i ragazzi No vabbè Questo video è tutto Un Che carini Adoro Ma perdonatemi Dopo ieri Che ho pianto Infinitamente Per Raul E la sua espulsione Oggi sono abbastanza felice Di questa Di questa puntata Amorosa I ragazzi Li devono mettere Sempre in imbarazzo Ci sta Ci sta È la tua opportunità Vai Giordano Ce la puoi fare Forza C'è feeling C'è feeling Sì che sono belli Ragazzi Vi prego Speriamo che nasca qualcosa Anche se questa è la settima puntata E la prossima settimana C'è l'ultima settimana E quindi E niente Prima cosa Vedete il sorriso Di Davide Gli si illumina Non l'ho mai visto Così irraggiante Così Sono bellissimi C'è proprio Si illumina È proprio Mi sa che Un po' Innamoratino Davide Mi capisce C'è capisce Il mio senso Dell'umorismo Capisce Quando magari Sono un po' Più E mi fa ridere Sì va bene Ma vogliamo di più Dicci di più Ti piace Oppure Non lo so Siete una cosa sola Voglio che si mettano insieme Basta Li scippo troppo Ecco No non è stato un bacio Però ce n'avamo quasi Dai è stato un bacino Tipo nella fronte Ma che carini Lo sentivate Lui che diceva Ma che bellina sei Ma come fa lei Cioè dai Si trovano tanto bene Insieme Forza E amore sia Quindi sono contenta Di aver trovato Una persona come lui Dentro al collegio Io spero che lei Non lo mandi Nella framezone No No Sofia Mi raccomando Perché Non specifica niente Lei Dice soltanto Che è felice Di aver trovato Una persona come lui Ma non dice Nient'altro Vedete le mie mani Come gesticano Perché sono Troppo impazzite Ecco le mani Vabbè Lasciamo stare Cioè Sofia È Una ragazza Cioè Una ragazza Come la cerco Lui è proprio Dichiarato Basta L'abbiamo capito Per lui È amore Non ce n'è Che sia amore Affetto O semplice attrazione Non c'è niente Di più bello Dell'abbraccio Di chi ci fa stare bene E amore Affetto Non si sa che cosa Noi vogliamo L'amore L'amore vogliamo Vogliamo Che si mettono insieme Almeno io Voi Fatemelo sapere Nei commenti Cosa volete Scusate Mi ero lasciata andare Un attimo Vabbè Questo è quello che succede La notte al collegio Non lo so com'è Non me la ricordo Comunque Qui stanno impazzendo Tutti Che fanno Cantano Quelli dormono E loro cantano Raga Questo mi fa Troppo ridere Guardate la faccia Di luna Appena Gli hanno detto Basta Forse era Esa Dirli basta Non lo so Secondo voi Chi era Però mi fa Troppo ridere Perché in effetti Io sono a letto Cerco di dormire Lei che Continua a fare Eccetera eccetera E continuo E ancora E basta Luna Io voglio dormire Canta di giorno Non di notte Che io dormo Comunque Faceva ridere Questa scena Quindi ho voluta Vedere per questo Detto ciò ragazzi Il video è finito Spero che vi sia piaciuto Io sono davvero Con il cuore Colmo d'amore Non vedo l'ora Di vedere la prossima puntata Per capire Che cosa succede Tra i due Se ci sarà un bacio Oppure no Voglio saperlo Secondo voi Ditemelo nei commenti Mi raccomando Adesso vi mando Un bacione enorme Vivi tantissimo Vi ricordo di iscrivervi al canale Seguirmi sui Cio 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 Seguirmi sui Cio Seguirmi sui Social Ecco Commentare Condividere Mettere un pollice in su E tutte queste cose di qua Va bene Io vi Bacio di nuovo E vi ricordo Che domani uscirà Un nuovo video Perché ogni giorno Sto facendo un video Ok Ciao Vivi tantissimo Ciao Grazie a tutti.